Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che le forze russe e alleate inviate in Kazakhstan per sostenere il potere centrale, che secondo lui è stato vittima di un'aggressione, lasceranno il paese dopo la fine della loro missione. Una volta che il contingente avrà espletato le sue funzioni, si ritirerà dal territorio del Kazakhstan, ha detto Putin durante un incontro in videoconferenza con i suoi alleati, compreso lo stesso presidente kazako. Comprendiamo che gli eventi kazakistan non sono i primi e lontano dagli essere gli ultimi tentativi di interferire dall'esterno negli affari interni dei nostri stati. Putin ha poi avvertito che Mosca non tollererà le rivoluzioni colorate nell'ex Unione Sovietica, un'espressione ricorrente usata per descrivere le rivolte orchestrate, secondo il Cremlino, dall'Occidente nei paesi dell'ex Unione Sovietica. E tuttavia alla stabilità kazaka si è dimostrata molto interessata la Cina, che esce dall'ombra e assicura assistenza per prevenire qualsiasi tipo di rivoluzione. Secondo gli Stati Uniti, al di là delle dichiarazioni odierne di Putin, sarà molto difficile per il Kazakistan far ripartire l'esercito russo e Papa Francesco durante l'Angelus di domenica ha affidato il popolo kazako alla misericordia della Madonna.